Amici e amiche di Sportme, benvenuti dal comunale di Motta Sant'Anastasia, per la ventitresima giornata del Girone C di promozione. Dopo il pareggio ottenuto in casa del Realaci, l'FC Motta ospita il Caladabbiano, con l'obiettivo unico di trovare la diciottesima vittoria stagionale in campionato. Per questa partita Di Maria si affida a Gulisano, Oliveri, Conigliello, Orofino, Giacone, Sardo, Palazzolo, Luca, Inserra, Montalto e Sottile. A disposizione Sciuto, Nicolosi, Coniglio, Piana, Ferlito, Maenza, Ruscica e Toscano. Rispondono gli ospiti con Ravasco, Musumeci, Vaccaro, Romeo, Barresi, Savoca, Tomasello, Isgro, Curcuruto, Contarino e Di Mauro. A disposizione Russo, Guglielmino, Mannino, Pagana e Bonaventura. Incontro affidato al signor Gabriel Battista Castelletti della sezione di Caltanissetta, che sarà coadiuvato dal signor Vasquez di Siracusa e dal signor Fazzi di Enna. Si parte Caladabbiano che gioca il primo pallone della partita. Punizione per gli ospiti, viene chiamato anche lo schema, arriva il tiro. Facile per Gulisano, Oliveri appoggia nella zona di Luca che cerca di nuovo il compagno, va a buon fine la triangolazione, avanza l'otto che adesso prova il mancino, che si stampa sul palo, primissima occasione per il Motta. Calcio d'angolo per il Motta, servito dal limite Palazzolo che controlla col destro, prova adesso il tiro. Pallone di poco fuori, altro tiro dalla bandierina per il Motta, va a Luca, traiettoria interessante, un po' di confusione in aria, stacca Sottile che alza un campanile, arriva un altro tocco, poi ci prova in Serra. Una grande acrobazia, leggermente imprecisa, rimessa laterale per il Motta che adesso riparte, ancora con in Serra, in seguito da Vaccaro, prova a superarlo il 9 che mantiene però il possesso, rimette in mezzo la sfera, stacca Palazzolo, pallone alto sopra la traversa. Punizione morbida, giocata nella zona di Luca, mantiene il possesso il numero 8, serve in Serra, risponde in due tempi Ravasco, arriva un'altra opportunità per il 9, si torna a giocare, gioca il primo pallone della ripresa all'FC Motta. Pallone lungo, intercettato da Musumeci, riparte l'FC Motta con Sottile, adesso il pallone tra piedi di Montalto che scambia con in Serra, prova il destro il 10, vicinissimo al vantaggio l'FC Motta, riparte il contropiede del Calatabiano con Tomasello, allarga sulla sinistra verso Curcuruto, lo segue Giacone, si ferma il 9, supera il proprio avversario, rimette in mezzo, non riesce a centrare la porta a Tomasello ma l'azione è ancora viva, Contarino ha davanti un avversario che poi lo ferma, corre a destra Luca, alza la testa per il traversone, stacca in Serra, pallone buono per Sottile, Murato dall'intervento di Savoca, possesso per Oliveri che gioca in verticale verso Montalto, pallone buono per Palazzolo che si apre un barco, arriva tu per tu col portiere, poi gioca morbido su in Serra, la sblocca così l'FC Motta e 1-0 al Comunale, festeggiano i ragazzi di Di Maria, rivediamo la progressione di Palazzolo che poi davanti a Ravasco ha servito in Serra che da due passi ha fatto 1-0, altro tiro dalla bandierina, va il solito Luca, pallone buono per Orofino, arriva un'altra occasione per il raddoppio del Motta, Oliveri si incarica della battuta di questa rimessa laterale, scatta Sottile sulla sinistra, prova addirittura il tiro che si stampa sulla traversa, corner dalla destra per il Motta, pallone sul primo palo, non ci arriva nessuno, controlla in Serra che carica il tiro e fa 2-0, la chiude così l'FC Motta nel segno del proprio numero 9, doppietta per in Serra, rivediamo il controllo in area di in Serra e poi il tiro imparabile per Ravasco, buonaventura viene intercettato, poi Palazzolo restituisce un pallone al Calatabbiano che adesso può giocare sulla sinistra, prova a sfondare Vaccaro, ci riesce molto bene, arriva il traversone, conclude Tomasello che però è impreciso, punizione per il Motta, va Palazzolo col destro, riesce a neutralizzare Ravasco, Sottile, gioca su Orofino che allarga bene verso Luca, spazio per andare l'otto, prova il tiro che però finisce fuori, Ravasco scambia con Barresi, prova il lancio lungo il 5, ma arriva il triplice fischio di Castelletti, FC Motta che batte Calatabbiano 2-0 e arriva a quota 57 punti in classifica, una bella risposta dei ragazzi di Di Maria che si godono al momento la vetta della classifica in attesa di conoscere il risultato di Don Bosco Realaci.